ragazzi il mio fuori onda oggi è un tg del giorno dopo ovvero sia io prevedo che domani leggeremo che il nuovo leader del pd è nicola zingaretti adesso sono le 7 e 20 questo non è un fuori onda difficile per l'inquadratura il montaggio il racconto c'è la predizione c'è l'impaticino perché c'è chi ha già perso l'uomo ha perso le lezioni contro la raggi è visto perdente contro martina non ha potrebbe soffrire di fascinite non che lui è più energico e più è proprio un fassino nel senso poi fassino un uomo e tutto però non era un leader può avere questo problema c'è zingaretti ha una sua ha vinto ha vinto nel lazio insomma secondo me ha anche una figura mediatica sdoganabile a questo fratello attore che è amato insomma per i motivi più superficiali del mondo voi direte sì per questi motivi io dico che non ce l'ha auguri anche a lui auguri a questo pd che deve risollevarsi perché possiamo dimenticare tutte le cose belle che ha fatto il tutto prima di notare più che l'Italia ha aiutato